Giornata tutta abruzzese per il sottosegretario alla difesa Gioacchino Alfano che questa mattina ha partecipato in piazza Diaz a Montesilvano alle celebrazioni per la festa della Repubblica. Nel corso del suo intervento il sottosegretario ha sottolineato l'importanza dei valori dell'accoglienza e della solidarietà oltre ai sacrifici dei tanti italiani morti per la patria. Io credo che il messaggio più efficace è quello di far capire ai ragazzi che bisogna combattere non con le armi ma con la formazione interna per essere altruisti, per essere una comunità. Noi continuiamo a fare il nostro dovere di paese accogliente ma lanciamo un'allarme che quell'accoglienza non deve essere poi una sofferenza che viene trasferita dalla zona di origine a quella di destinazione. L'Europa finalmente ha capito che le nostre rivendicazioni sono non delle scuse ma sono cose serie. Senatrice Chiavaroli, la presenza oggi a Montesilvano del sottosegretario Alfano conferma l'interesse del governo per la nostra regione. Assolutamente sì, questa è una giornata che serve per ricordare il sacrificio di tutti quelli che hanno costruito il nostro paese ma serve anche per porre l'attenzione del governo sulla città di Montesilvano sui problemi che ci sono qui con la sicurezza. È una sensibilità che il governo manifesta per la regione, per le forze armate nel loro complesso ma anche per i corpi ausiliari delle forze armate che sono qui presenti. La città di Montesilvano ne deve essere onorata ne sono onorate le forze armate che lo hanno ricevuto col massimo degli onori e con tutto quello che una cittadina come Montesilvano sicuramente può dare a un'autorità di governo.